Buongiorno a tutti, ciao a tutti, sono Riccardo, Riccardo Bosco del ristorante Boivin a Levico Terme in provincia di Trento e rappresento il Trentino Alto Aldice in questa ottava edizione della settimana della cucina regionale italiana a San Paolo. È un'occasione incredibile per far conoscere la nostra regione, questi prodotti, la sua cucina al ristorante Tre Bicchieri. Dove vi consiglio vivamente di andare perché è un grande ambasciatore della cucina italiana qui a San Paolo. Oppure veniteci a trovare a Levico Terme, il ristorante Boivin. Grazie, ciao!